Giornata storica quella di ieri per lo sport cittadino grazie alla nascita di Fano Sport, un consorzio creato da 18 imprese locali che hanno deciso di unirsi per sostenere le varie realtà del nostro territorio. Ma per saperne di più siamo in collegamento con il giornalista Andrea Amaduzzi. Andrea buonasera, la priorità sarà l'Alma Juventus Fano? Buonasera a te e a tutti i telespettatori. Certamente l'innesco arriva dal calcio, dalla crisi in cui è scivolata l'Alma Juventus Fano, una crisi dagli sviluppi ancora per certi versi imprevedibili. Esiste un'Alma Juventus Fano 1906 che ha ancora tutto il diritto ad iscriversi al campionato di eccellenza anche se non ha un campo a disposizione e deve sanare alcune pendenze. Detto questo il consorzio nasce sicuramente a seguito di questa crisi e della convocazione da parte del sindaco Serfilippi e dell'assessore Santorelli di un gruppo di imprenditori che nel giro di una decina di giorni hanno dato vita a questo consorzio. Un fatto sicuramente nuovo, definirlo epocale magari è un po' prematuro, aspettiamo di quantificarne la portata e soprattutto di raccontarne i risultati. Certamente però si pone un'argine ad un disinteresse che si era sedimentato nei decenni nei confronti dello sport fanese da parte dell'economia cittadina, un disinteresse di cui lo sport ha pagato fatalmente le conseguenze. Ci sono state delle eccezioni sicuramente ma non sono state sufficienti in questi anni a segnare in qualche modo un'inversione di tendenza. Ieri la firma ufficiale dei membri fondatori e in questa nuova accordata ci sono anche tre editori di Fano TV. Esattamente, fanno parte tutti e tre del consiglio d'amministrazione, abbiamo Giancarlo Torcoletti per Tecnoelettronica, già presidente del Cicogna e dell'Atletico Alma, poi Diego Zeppa in rappresentanza di Earth System e Michele Sorce per conto di Macoser quanto agli altri componenti del consiglio d'amministrazione. Sono invece Gianluca Celani per Nucco Promo e l'immobiliarista Matteo Antonelli per AMT. 18 imprese, c'è qualche azienda che è rappresentata da due figure, un consorzio che non è in assoluto un elemento di novità nel panorama sportivo locale. Da anni il basket pesarese si regge appunto su un consorzio di aziende che pur con tutti i distingue le perplessità che sono maturate in questi anni continua ad avere un ruolo fondamentale appunto nello sviluppo del basket ai massimi livelli a Pesaro. E oggi è stata espressa soddisfazione anche da parte del sindaco Sir Filippi, dell'assessore allo sport Santorelli, che sin da subito in realtà si erano attivati per fronteggiare la crisi del calcio fanese. Esattamente, sono stati loro a dare impulso a questa creatura, poi naturalmente c'è voluta la buona volontà di chi ha sottoscritto questo impegno. È importante sottolineare come Fano Sport nasca come realtà a sostegno dello sport del territorio, quindi in prima battuta il calcio perché rappresenta l'emergenza, ma anche le altre realtà sportive sono presenti nel consorzio, tra gli altri il presidente della Virtus Emilio Cenerilli con la sua azienda Roberto Pietrelli, personaggio legato al volley per Pietrelli Porte e naturalmente la nascita di Fano Sport attirerà anche l'interesse di altre realtà sportive che si sentiranno quasi in diritto, tra virgolette, di chiedere una mano attraverso le sponsorizzazioni che lo stesso consorzio potrà erogare. Quindi un compito mica da poco in un panorama sportivo cittadino che è estremamente variegato e popolato da numerosissime realtà.